Buongiorno a tutti, sono Elsa Polvero. Questa sarà la nuova riforma pensionistica legata ai vincoli finanziari e abbiamo dovuto chiedere un sacrificio ai pensionati. Mi sono commasso ma adesso mi sono ripresa. Sopra la panca l'Ersa campa, sotto la panca l'Italia crepa. 33 tretteini entrarono a Trento, tutti e 33 totterrando. Ma la pensione con la minima non ce la danno niente più. La pensione con la minima non ce la danno niente più. La pensione con la minima non ce la danno niente più. La pensione con la minima non ce la danno niente più. La pensione con la minima non ce la danno niente più.